Sono 464 le persone risultate positive nelle 24 ore precedenti, secondo il report dell'ASPO di Caltanissetta, del 14 febbraio, tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 125 di Gela, 119 di Caltanissetta, 78 di San Cataldo, 36 di Niscemi, 21 di Sommatino, 17 di Mazzarino, 14 di Sera di Falco, 12 di Mussomeli, 7 di Milena, 7 di Riesi, 7 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Vallelunga Pratameno, 4 di Delia, 3 di Butera, 3 di Resuttano, 2 di Villalba, 1 di Campofranco, 1 di Montedoro e 1 di Sutera, 6 persone risultano ricoverate in degenza ordinaria, 2 pazienti di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Mazzarino, 1 di Caltanissetta e 1 di Vallelunga Pratameno, dimesso invece un paziente di Gela guarito virologicamente mentre si registra un decesso di un paziente di San Cataldo positivo al SARS-CoV-2. A questi dati si aggiungono i guariti e cioè 169 di Caltanissetta, 142 di Gela, 83 di Niscemi, 38 di Mussomeli, 31 di Mazzarino, 25 di San Cataldo, 19 di Santa Caterina Villarmosa, 18 di Riesi, 12 di Sommatino, 8 di Vallelunga Pratameno, 6 di Delia, 5 di Milena, 4 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Acquaviva Platani, 3 di Villalba, 1 di Bonpensiere, 1 di Sera di Falco e 1 di Sutera. In totale sono quindi 4.289 positivi in quarantena domiciliare in provincia, 66 malattie infettive e 3 in terapia intensiva.